Una grandissima affermazione personale è quella di Roberto Sant'Angelo alle scorse elezioni. 9.600 voti, il più votato in assoluto di Forza Italia, con il partito che si conferma traino del centrodestra e che è stato primo in molti comuni sotto i mille abitanti. Il partito per Sant'Angelo ha avuto una crescita importante sul territorio, con tante adesioni nell'ultimo periodo, altri ce ne saranno. Forza Italia è il partito che cresce nella coalizione del centrodestra. Tra le passate regionali e le attuali ci sono oltre 6 punti percentuali, tra le politiche di un anno e mezzo fa ed oggi più di 2 punti percentuali. Significa che l'elettorato moderato si rispecchia nella proposta politica di Forza Italia. Io sono stato il più votato di Forza Italia in Abruzzo con 9.600 preferenze e devo ringraziare ad uno ad uno tutte le persone che mi hanno sostenuto. Devo dire che motivo di orgoglio è stato in provincia dell'Aquila aver fatto Forza Italia prima in oltre 30 comuni sotto i mille abitanti. In termini assoluti di voti valgono poco, ma quello dimostra l'attenzione e la capitalità in cinque anni di attività amministrativa in Consiglio regionale. Quindi benvenga per il futuro. Noi siamo fiduciosi perché già in queste ore ci sono ulteriori interessamenti di passaggio all'interno di Forza Italia che stiamo valutando. Sant'Angelo, che è anche Presidente del Consiglio Comunale e che è stato Vice Presidente del Consiglio nel primo mandato targato Marsilio, potrebbe restare in un ruolo istituzionale anche nel nuovo governo regionale. Il Presidente appena tornerà dall'estero incontrerà i partiti della coalizione e avrà un confronto sereno per comporre la nuova giunta che rispetterà gli equilibri dei territori e la volontà dell'elettorato di centrodestra. Sospiri aspirerebbe ad un ruolo di assessore. Dunque Sant'Angelo, anche se non lo dice, potrebbe fare Presidente del Consiglio o il Vice della Giunta. Questi sembrano essere gli scenari al momento. Ovviamente anche lui vuole attendere il confronto sereno tra tutti i partiti. Guardi, noi stiamo parlando all'interno del partito. Le migliori scelte verranno fatte insieme, in collaborazione, senza fare nessun strap. È chiaro che i territori verranno rispettati. Il risultato elettorale, anche perché si vota, verrà sicuramente valorizzato e rispettato. Insieme al coordinatore regionale Nazario Pagano troveremo le migliori scelte per dare spazio e visibilità a tutti.